Ciao, io sono Elia Calò, ben ritrovato al giardino sotto il naso, ci troviamo qui nel Bar Mita e siamo pronti per un nuovo interessante e semiselvatico episodio. In questo video ti parlerò di come creare un drink bello, fresco, leggermente alcolico, una variante appunto del nostro Jim Fitz. Io sono un bartender professionista, appassionato e studioso di erbe spontanee, ideatore di Amaro Satri, Liquore Pineta, Permut Smita, Liquore Fora e Liquore Fenua. Trovi tutti i dettagli sulle nostre bottiglie selvatiche sul nostro e-commerce www.mitaspins.com. Ma ora andiamo a scoprire, insieme a Infinity, il nostro orologio aureo che conta il tempo in maniera del tutto rivoluzionaria, la nostra risetta e come preparare il nostro Griffiths. Sigla! Bene, prima di cominciare mi raccomando iscriviti al canale e clicca sulla campanella, Dindon, ti invito anche a dare un'occhiata anche a tutti gli altri nostri canali social, Instagram, Facebook e TikTok, sempre con il nome Giardino sotto il Naso, e anche Mita Spirits. Ti invito anche a dare un'occhiata sempre a tutte le descrizioni dei nostri video, perché oltre a trovare la descrizione del video stesso, trovi anche eventuali aggiornamenti. Ma veniamo a noi. Qualche episodio fa abbiamo registrato il grande classico Jim Fitz, che se te lo sei perso insomma puoi trovare i dettagli qui su, e avevo già annunciato, preannunciato nel video, che avrei creato una mia variante, diciamo selvatico o comunque semiselvatica. Siamo diciamo in pieno inverno, ma in realtà le temperature sono primaverili, e queste temperature favoriscono la crescita dell'acetosella. Il nome scientifico è Oxalis pescapra, ed è una pianta veramente molto comune e infestante. E la particolarità di questa pianta è che appunto ha il gambo che, mordicchiandolo, richiama un po' il gusto del limone, o comunque di una sostanza un po' acidula, che può essere limone, lime. Infatti nel nostro dialetto viene chiamata Chituriestu, Chitumaru, ma anche in maniera un po' meno carina, meno romantica, anche pisciacane. Tra le varie cose, Chituriestu, Chitumaru, significa proprio appunto aceto selvatico, aceto diciamo forte, ecco diciamo così, ed è appunto quello che dà il gusto acidulo a questa pianta è l'acido ossalico. Per chi insomma è un po' più addentrato nel mondo, diciamo, della chimica, l'acido ossalico va utilizzato con cautela, perché tende a far depositare gli ossalati nei reni, e quindi può dare un po' di problemi in grandi quantità. In questo caso ci faremo un drink, e quindi non ne berremo grandi quantitativi, e di conseguenza va più che bene. Ti consiglio, se trovi un fiore così, che è appunto l'acetosella, di mordicchiare lo stelo, di scrivere un po' il contenuto, il gusto è buonissimo. Parentesi selvatica finita, questo è il primo degli ingredienti che sono andato appunto a raccogliere, e a farci un estratto successivamente. Come abbiamo detto, il Gin Fits è a base di gin London Dry, 4 celle e mezzo di gin London Dry. In questo caso andremo a creare il nostro Twiston Classic, utilizzando un gin che noi, diciamo, utilizziamo per la nostra miscelazione, che è aromantizzato al limone, verbena e melissa. La verbena e la melissa sono due piante che hanno una caratteristica in comune, contengono limonene, che appunto richiama a questo sentore appunto un po' di profumo di limone. L'altro ingrediente è il succo di limone, per il Gin Fits originale, diciamo così, dove se ne versano 3 celle. Il limone è appunto acidulo, di conseguenza andrò a creare un Twiston Classic, andando a utilizzare parzialmente, a sostituire parzialmente il succo di limone, con dell'estratto di acetosella che abbiamo fatto prima. Quindi andrò a versare, anziché 3 celle di succo di limone, 2 celle di succo di limone e un CL di succo di estratto di acetosella gialla. Altro ingrediente per il Gin Fits classico è lo sciroppo di zucchero 1 a 1, quindi un simple syrup neutro. Andremo a sostituire un CL di questo con un CL di sciroppo di fiori di nespolo, che è veramente interessante perché ha questo profumo che ricorda un po' il bucato appena steso. Il profumo dei fiori di nespolo è veramente interessante. L'unico problema è che i fiori di nespolo sono disponibili soltanto, diciamo, entro dicembre, quindi è un po' tardino. Se non dovessi, se ti stai chiedendo, ma io ne ho lo sciroppo di nespolo e non ce l'ho, non fa niente, puoi utilizzare anche uno sciroppo comunque un po' più delicato, oppure lo sciroppo neutro va più che bene. Io ho deciso di utilizzare questo perché ha questa nota floreale un po' particolare. Se ti si è perso la ricetta su come preparare il nostro sciroppo di fiori di nespolo, troverai il link sempre qui sopra. Io direi che l'ultimo ingrediente può essere la soda, e in questo caso andremo ad utilizzare una soda classicissima, ma se vuoi o se puoi utilizzare una soda aromatizzata, puoi anche farlo, ma direi che poi c'è già tanta roba. Il bicchiere è sempre classico, in questo caso andremo ad utilizzare un tumbler alto di un quantitativo un po' più piccolo, rispetto a quello che ho utilizzato per il ginfizio originale, che era di una capenza di circa 300 ml, quindi questo qui è un po' più piccolo, quindi andremo a rendere un po' più concentrato aggiungendo un po' meno soda. La prima parte della ricetta appunto richiede la shakerata, quindi andremo a miscelare in maniera energica tutti gli ingredienti che ti ho appena menzionato, dopodiché filtreremo nel bicchiere e aggiungeremo un goccio di soda, super 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 easy. Procediamo. Ghiaccio nel tin, il ghiaccio nel bicchiere l'ho già messo così, intanto inizia a fare il suo lavoretto, andiamo a versare 5 cl di gin aromatizzato al limone verbene melisse, dopodiché andiamo a versare un cl di estratto di acetosella, buonissimo tra l'altro, due celle di succo di limone, e un cl di sciroppo di fiori di nespolo. In questo caso puoi anche scegliere di mettere lo sciroppo prima, in modo tale da evitare di avere poi residui di sciroppo all'interno del giga, in questo caso era veramente poco, quindi va più che bene. Andiamo a completare il raffreddamento, il ghiaccio era comunque bello secco, infatti non c'è acqua che si è appunto del ghiaccio sciolto, andiamo se vogliamo testare il drink e poterlo aggiustare, diciamo in caso vogliamo modificarlo, questo è il momento giusto di farlo, anche se abbiamo il cliente davanti o l'ospite davanti, possiamo interagire con la persona che abbiamo appunto davanti, mettendone una goccia sulla mano. Io non ho nessuno con il quale interagire, quindi interagisco da solo, per me e per il mio gusto va più che bene. L'aceto celery dà al drink un leggero gusto di mela verde, che insieme al gin aromatizzato, quindi questa nota agrumata di limone, è molto intensa, molto forte, e sarà appunto un drink molto gradevole, soprattutto fino alla tarda primavera, quando l'aceto celery sarà disponibile, posso anche prendere l'estratto di aceto celery, metterlo in un contenitore di ghiaccio e farmi i miei cubetti, in modo da potermelo conservare un po' più a lungo. In realtà in frigo l'estratto di aceto celery, ha un pH, quindi un'acidità molto bassa, è molto più del succo di limone, per cui si conserva comunque molto a lungo. Io ad ogni modo ti consiglio di fare l'estratto man mano che ti serve, in modo tale da mantenere anche quel colore verde bello vivo. Andiamo a shakerare i nostri ingredienti. 10-12 secondi come, diciamo, regola della shakerata vuole. Andiamo a togliere l'acqua del ghiaccio che si è sciolto e possiamo, se vogliamo fare le persone eleganti, andiamo a utilizzare la tecnica del double straining con la tecnica uovo, ma questo è opzionale, puoi anche prendere e versare tutto nel tuo drink. Voilà. E andiamo, il colore è veramente molto bello, andiamo ad aggiungere giusto un goccetto di soda per completare il nostro drink. Leggera miscelata. Possiamo scegliere di aggiungere un altro cubettino di ghiaccio eventualmente. Così. E andiamo a decorare il nostro drink con un rametto di, uno stelo di acetosella gialla, che va più che bene, e possiamo anche, visto che è un drink semiselvatico, aggiungere una fettina di limone. Visto che comunque il limone c'è. Ed ecco a te la versione selvatica del nostro GFizz. Se ti è piaciuto questo video, mi raccomando, un bel pollice all'insù, commenta e condividi con i tuoi amici, in questo modo mi darai la possibilità di continuare a crescere, a darti maggiore contenuto gratuito. Approfitta dei commenti per scrivermi se c'è magari qualche argomento che vorresti approfondire, e mi raccomando, iscriviti al canale e clicca sulla campanella, din don, in questo modo rimarrai sempre aggiornato e non ti perderai neanche l'episodio. Non resta altro che dirci, ci vediamo presto dove l'ho messa la seduzella. Anzi prestissimo. Eccola qua.